Il primo giorno subito. Il primo giorno subito, così abbiamo trovato quello che cercavamo, insomma, quindi siamo stati contenti. Forse è un po' presto per dirlo, ma quest'anno gli acquisti con i saldi potrebbero essere più soddisfacenti degli ultimi due anni, sia per chi compra che per chi vende. A conferma di quanto dichiarato da Adico, che per questa stagione ha previsto un aumento di chi acquisterà addirittura della cifra che sceglierà da spendere, sempre con la giusta attenzione. Avevo già adocchiato, ho visto i prezzi e li hanno mantenuti, devo dire, hanno fatto lo sconto sul prezzo che avevo già visto. Perché a volte fanno il contrario, nel senso che magari alzano un po' il prezzo perché succede e poi lo riabbassano, ma invece vendono quello che vogliono, ecco, al prezzo che vogliono loro. E c'è tutto regolare? No, no, tutto regolare, devo dire, sì, trovata bene. E a giudicare dagli altri consumatori non è stata l'unica tra chi ha scelto di comprare qualcosa per sé e chi per i più piccini. Io un vestitino per la sera, quando vado via in crociera, è il 50%. Già il 50%? Il 50%, sì. È buono, insomma, ha fatto l'affare. Sì, ha fatto l'affare, sì. Per bambini, quello che conviene, perché quando crescono sempre di più spese, quando piccoli conviene 6-4 euro. Grazie. 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 Grazie.